Ecco siamo a Cremona, alla Lidl. Questa, dato i miei viaggi che devo venire spesso a Cremona, questa è diventata la mia seconda colonnina. Ricarico a casa con il fotovoltaico, ricarico a 43 kilowatt, vedete, 43 kilowattora, 20 minuti, mezz'ora, è pronta l'auto, vedete, ti dà 25 minuti, però 25 minuti sono quando fa la finalizzazione. Dunque, questa è ricaricare con la pasta Cremona. Super! Viaggiare in elettrico. Questa, ragazzi, è super, veramente, fa il pieno, veloce, gratis, ecologico, ma è veramente così. Ora vado a fare spesa alla Lidl e poi si torna alla base. Grazie Lidl!